Chi mi conosce sa che sto da due mesi in attesa di questo giorno ad accumulare primogems Fino ad oggi, il giorno fatidico delle vocazioni E per questo giorno ci andiamo a fare, una volta funzionava questo trucchetto adesso non funziona più Quando uscì Diona, che funzionava il fatto sediti qua sopra, metti ore 23 e te esce di tutto e di più Adesso non funziona più Sì 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 Qui ormai è tradizione posizionarsi qua sopra, mettere l'ora alle 23 Ma com'era? 23 e 40 mi pare, 23 e 40 no, le 23 e 23 qua Gioco 23 e 43, così 23 e 46, va bene 23 e 43 Allora nel frattempo che levo il menu e vado nei wish si fanno 23 e 46 Allora, signori È giunto il momento, il momento leggendario 13.000 primogems Pronte per noi stasera Allora io ho starto le prime 10 signori Mamma mia Non lo volevo fare Non lo volevo fare Madonna c'era un micro bagliore Better Tom wins e addirittura il Davidone Allora, il libro Ne L'arco Vabbè, vabbè, lasciamo stare cosa mi è uscito Ok 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 Ok, lo schifo Se iniziamo così finiamo male Finiamo proprio male Le prossime 10 Altre 10 evocazioni, signori Altre 10 Siamo a 60 Siamo a 60 Non ci credo a basare Hai ragione Ci vuole la convinzione Ci vuole la convinzione Mi alzo addirittura il volume Mi alzo addirittura il volume delle cuffie Altre 10 E apri tu Allora Altre 10 Signori Altre 10 Se arriviamo alla settantesima con questa Quindi ci avviciniamo A quelle 75 Da cui c'è il retap della 5 stelle Mamma mia Tutte quelle prime gemme stanno scomparire Ed ora No, è viola Madonna Ma perché mi sembra di dorata Beh, beh, tu La porta C5 No, o G6 Non mi ricordo Buono così Ok Mamma mia Un'altra volta questa La porta C20 Un'altra volta Vabbè 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 Non mi posso lamentare Non mi posso lamentare Non mi posso lamentare Allora Se me ne esce un'altra Dico Se non mi è meglio quella Allora Altre 10 signori Altre 10 Altre 10 Colpa al cuore Signor Eccola E allora Fermi Fermi Mamma mia 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 Io ogni clic ho paura Ogni clic ho paura Bello c6 Bello c6 C'è il terrore C'è il terrore Signori C'è il terrore Sta a tremare Sta a tremare Sta a tremare Sta a tremare Raga Sta a tremare Sta a tremare Baronna Quando esce Xiao Xiao Sta a tremare Oh mio Dio Vabbè Fa un culo Sei Mamma mia E' un colpo al cuore Se non mi uscivo E' ragione No no Basta Basta Le utilizzo tutte Stasera le utilizzo tutte Le utilizzo tutte Le prime Se non fa niente Si ricompreranno i pacchetti Base Siamo pronti Altre 10 Vabbè Adesso non dovrebbero più uscire Dorate Perché basta Cioè Che hanno sfragassato Mi hanno già fatto venire un infarto Se mi esce un'altra volta Basta Ok 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 Libro Ah I will sit Non mi ricordo Mi pare che serve per qualcuno Per qualcosa Potrebbe Mamma mia Signore di Twitch Mamma mia No veramente Ok Diona Diona Giusto 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 Questa è la trentesima Mamma mia Non lo so se ci arrivo a 70 70 Non lo so se ci arrivo di nuovo Allora Allora Vabbè Robetta Oh Un'altra Diona Non si butta Miene Mi porto Diona Ci sei Mamma mia Fortissimo Siamo a 40 Mamma mia Quella luce era Era il terrore Quando l'ho vista Diona Ancora Sì lo so E infatti Quella è sto calcolando Questa era la quarantesima Questa è la quarantesima Mi pare La favonius Scree Su E' buona Ok 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 Andiamo con la cinquantesima Signori Con la cinquantesima Le cinquantesime Evocazioni Cinquantesima Allora 50 E 60 E finisco le prime Gems Con Non so quelle quante sono No Secondo me non ci arrivo a 60 Ah 70 Non ci arrivo Andiamo alla cinquantesima Arco Spadune Spadune Arco Ancora E' Diona C6 Molto probabilmente Non me le sto contando Ma è una Diona C6 Praticamente Ok Ma dove l'hai visto Dorato Dove Questa è la Sessantesima Signori La Sessantesima Ok Grazie Grazie Mi voglio che non mi hai fatto morire De crepacura Dio Ragazzi ma non esistono altri personaggi A parte Diona E quell'altra E quell'altra No S'inchiula Mamma mia Allora Le primo gems Sono bene o male Quindi Dio Una C34 Ma è pure io Credo Ha detto basta Ha detto basta Il gioco Allora Io qui ne posso Prendere 6 E ce ne prendiamo 6 Facciamo il massimo Secondo me ci arrivo Quasi uno 5 Io direi Ci prendiamo anche i 5 Di quelle blu Che non mi ricordo A quanto sto Ma tanto Le dobbiamo utilizzare Allora Direi Direi Per smorzare un po' La situazione Per smorzare un po' Passiamo a quelle blu Ok Ci facciamo delle singole Così pulite Tranquille Perché mi pare che No non le posso fare Ce ne facciamo 5 tranquille Singole Che la mioia Non mi fa venire Crepa a cuore Allora E vabbè La prima Non c'è sta niente La schippiamo Libera di niente E vabbè La seconda La seconda Io direi Eppure Su Cruz Bello Così L'ho schippata su Cruz Oggi così A schippare Sulla singola Mi è uscita Axia Sull'account secondario Quindi se fa Di nuovo così Pam E ti esce Che oggi Infatti Mi è venito un colpo Quando mi è uscito Quindi Voilà Arco Niente 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 Va bene E ultima E vabbè Vabbè Ma io non ci speravo Non ci speravo Il problema E' qua Che arriviamo Alla settantesima La settantesima Signori E' viola E' viola Altra volta L'altra volta Basta Allora Io me ne ho fatte 70 Io me ne ho altre 2 sferette qua Che posso prendere Mamma mia Gli altri 3 Ma arrivo a quella Settantacinquesima Ci sono arrivato Eh si Arriva la Settantaseiesima Mamma mia Settantacinquesima 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 Nessun non voglio di infarto stasera, proprio per me oh che cosa ho fatto? ho cliccato due volte signori signori di twin signori